Siamo con il responsabile tecnico del Martinsicuro 1964, bisogna specificarlo, Andrea Scarpantoni. Allora, responsabile tecnico, che campionato si appresterà a fare il Martinsicuro? Una stagione comunque interessante perché ci sono 16 squadre e soprattutto c'è il derby. Sì, derby a parte, diciamo noi forti del gruppo che comunque abbiamo costruito, lo stesso gruppo che l'anno scorso comunque ha affrontato il campionato di seconda categoria, purtroppo è andato a finire in malo modo, con una retrocessione, però ecco, sulle ceneri di quella squadra comunque siamo ripartiti, abbiamo messo qualche pezzo importante come Roberto Cucco, giocatore di esperienza che ha già militato nelle file del Martinsicuro calcio e contiamo e speriamo di fare comunque un campionato di vertice, questo non possiamo assolutamente nasconderlo. Negli anni precedenti sappiamo come il Martinsicuro è sempre stato una grande protagonista del calcio abruzzese, per anni è stata in lotta per la vittoria del campionato di eccellenza, magari non nell'immediato perché ovviamente parliamo di terza categoria, ma c'è comunque in voi un'ambizione importante per il futuro? Tengo a precisare e a sottolineare soprattutto che noi lavoriamo molto sul settore giovanile, abbiamo tutto il settore giovanile, dalla scuola calcio alla categoria juniores, per cui il nostro, in questo lo voglio proprio sottolineare, il nostro obiettivo primario è proprio lavorare sui giovani, crescerli, appunto anche se si tratta comunque di una terza categoria, magari sperare che arrivino in prima squadra e dargli comunque vetrina affinché magari squadre più importanti possano attingere. E questo è già successo l'anno scorso con due ragazzi che abbiamo comunque dato all'Alba Adriatica, quest'anno abbiamo girato alcuni ragazzi al Favale, quindi questa è la cosa che a noi fa piacere. Poi logicamente se loro, se i giovani che cresciamo daranno magari anche il loro contributo con la prima squadra, sicuramente la soddisfazione è doppia. E questo probabilmente potrebbe essere anche l'anno giusto per lavorare ulteriormente con i giovani, perché comunque in questi due anni, questi due anni calcistici sono un po' stati travagliati dalla pandemia, probabilmente facciamo gli scongiuri, però questo dovrebbe essere un campionato tranquillo sotto quel punto di vista, no? Sì, me lo auguro, comunque noi abbiamo anche un giusto mix di gente di esperienza con i giusti innesti di giovani provenienti appunto dal nostro vivaio con l'attuale rosa della prima squadra, quindi questo ci fa essere orgogliosi del lavoro che stiamo facendo e speriamo di raccogliere il frutto nel corso degli anni.